Sindaco, una giornata importante oggi, parte la demolizione del cementificio, lei ha già detto mi riporterò un pezzetto del cementificio. Sì, perché questa è una giornata storica per la nostra città, perché si comincia la demolizione del cementificio, che è stato l'anima della crescita della nostra città, però nello stesso tempo oggi è un detrattore ambientale che noi dobbiamo trasformare. Divetterà un polo attrattivo per l'intera regione, non solo per la città di Pescara, così il primo cittadino Carlo Masci durante la conferenza stampa in loco, quando è partita la demolizione dell'ex cementificio di Pescara in azione la benna, come vediamo dalle immagini di Diego Martelli, per l'abbattimento e la bonifica della zona che dovranno venire, piegano dalla ditta incaricata entro un anno poco più. Un'area rivoluzionata a pochi minuti dal centro cittadino. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno lavorando, dalla società che è titolare della struttura, alle imprese che lavoreranno per la demolizione, sorgerà altro qui e noi non aspettiamo che questo, perché questa zona deve essere riqualificata, lo stiamo già facendo. Abbiamo demolito il ferro di cavallo, abbiamo demolito i tre palazzi di Lago di Borgiano, dove stanno sorgendo spazi di comunità e anche qui nascerà un centro turistico che servirà per la crescita non soltanto di Pescara, ma di tutto l'Abruzzo. Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospieri, anticipa alcune delle opere che sorgeranno al posto dell'ex cementificio. Quando cessò la prima attività della vecchia cementeria fu subito chiaro che la Regione e l'amministrazione comunale di Pescara non avrebbero mai ripermesso di nuovo un'accensione a una cementeria. Il gruppo che ha acquistato il sito ha montato la sua idea imprenditoriale e quindi al momento avverranno tutte le attività di demolizione compressiva. Stiamo parlando di un sito enorme che abbraccia un'area che può diventare un polmone verde per la città fondamentale, l'uscita dell'asse attrezzato e nel corso del tempo poi saranno realizzate molteplici attività. Alcune innovative come SER per realizzare prodotti agricoli ai fini farmaceutici, altre ovviamente legate agli uffici, altre ancora a piattaforme ricettive. Insomma è un programma importante. Acquisiamo il fatto che un detrattore ambientale come oggi il cementificio andrà a terra e risolveremo anche un po' di problemi di ordine pubblico oltre che di inquinamento come è facile immaginare. Però in questo caso è tutto a carico del privato, cioè non ci sono risorse pubbliche. La nostra attività sarà solo quella di accompagnarla nelle varie fasi autorizzative. È evidente che alcune materie prime potranno essere a loro volta riciclate. Gli architetti Giovanni e Domenico Marchionne, responsabili del progetto, precisano che entro il 2025 o poco più sarà ultimata la demolizione dell'ex cementificio, ma una torre resterà in piedi per ospitare un museo archeologico e ci sarà un vero e proprio centro turistico. Si procederà passo dopo passo e l'intera area sarà definitivamente ultimata, si spera, e riconsegnata alla città tra i cinque anni.